Ciao a tutti, sono Marta Ronchiadin e vengo dalla provincia di Roma Cosa rappresenta per te il Romics? Un posto dove incontrare persone che magari non vedo sempre perché non abitano qui a Roma o nel Lazio Ed è un posto per divertirmi con le mie amiche Come saranno per te i quattro giorni del Romics? Saranno alla deriva, farò quello che mi pare perché mi voglio solamente divertire Arrivederci al prossimo Romics Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima Ciao, ci vediamo C'è sempre la solita